Oggi presentiamo un'arma che molti hanno già conosciuto dal punto di vista tecnico e pratico, la vogliamo riproporre in azione su alcuni bersagli che il tiratore affronta durante le gare di tiro nella specialità di combat sport, l'arma in questione è l'Invictus 1. Eccolo qua. È nata nel 2014 nella fabbrica d'armi di Cesare Guerini. Faccio presente che Cesare Guerini è una fabbrica di nazionalità italiana, Valtrombia, che per scelta aziendale i suoi prodotti vengono venduti sul mercato internazionale. Cesare Guerini con l'Invictus 1 non ha messo in commercio un semplice fucile da tiro, ma ha progettato e realizzato un eccezionale strumento da tiro a volo e coloro che già lo usano non possono fare a meno di apprezzarne l'architettura che richiama comunque il modello storico e le finiture, la qualità, la resa balistica in riferimento al bersaglio da colpire. Le canne sono dotate di tutti gli strozzatori che normalmente la specialità richiede e sono esterni alla volata delle canne. Dunque, l'Invictus 1 è un fucile da tiro a volo che si presta a tutte le esigenze che lo Sporting richiede. percorso di caccia, compasporting, percorso itinerante ed altri. Da parte mia, dopo un minizioso collaudo e prove di tiro, posso dichiarare che l'Invictus 1 Sporting è un'arma che rispetta tutti i parametri richiesti. Vale a dire veloce nel brandeggio, istintiva nella messa in mira, massima stabilità al controllo dello sparo e soprattutto buone rosario. Ora tenterò di colpire alcuni bersagli col mio fucile Cesar Guerini Invictus 1, alcuni bersagli da compasporting. di fare qualche tiro estremo per vedere, per collaudare questo grazioso gioiello. Quale è? invictus 1 di Cesare Guerini. evitato Un saluto a tutti da parte di Cesar Guerini, in particolare a coloro che condividono con me la passione del tiro a uno. A voi!